Il giorno e la storia Oggi è il 28 novembre 1820 Nasce il filosofo tedesco Friedrich Engels 1954 Muore Enrico Fermi 1680 Muore Gian Lorenzo Bernini Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari Direttore della Repubblica Oggi ho scelto di parlare del giorno Nel quale per la prima volta a Teheran Si viderono Churchill, Franklin, Dilano Roosevelt E Yosef Brods Stalin Non sombio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti